Giornata davvero importante quella di questo giovedì 5 maggio per la Fondazione Banco Alimentare Onlus. Oggi qui nel magazzino peserese del Banco Alimentare in via fermo è stata effettuata la donazione di un mezzo refrigerato, un mezzo di trasporto che consente un importante salto di qualità nel recupero delle eccedenze alimentari, nel loro trasporto anche nelle aree più lontane dai centri urbani principali. Una grande donazione effettuata grazie alla generosità della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Fondazione Carifano, Lions Club International Distretto 108 e Ancos Confartigianato e Banca d'Italia. Enti e fondazioni presenti oggi qui al Banco Alimentare assieme anche a Monsignor Sandro Salvucci, nuovo arcivescovo di Pesaro che a pochi giorni dal suo insediamento in cattedrale a Pesaro ha oggi effettuato la sua prima benedizione proprio in questo contesto. Il mezzo donato è solo un'occasione proprio per ritrovarsi, per ringraziare i donatori che ci permettono di avere proprio uno strumento importantissimo per raggiungere tutte le comunità e le associazioni delle aree lontane di Marche Nord. Li voglio ricordare i donatori perché sono stati veramente determinanti e sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, il distretto 108A dei Lions, quindi tutta la famiglia dei Lions ci ha accompagnato in questo, anche Ancos Confartigianato che ha da sempre un'attenzione alla persona, oltre che alle imprese, e Banca d'Italia. Questa donazione, quindi il mezzo che noi vediamo oggi con il logo e con il logo del Banco Alimentare che girerà appunto in tutto il nostro territorio, ci consentirà di essere sempre più efficaci nella redistribuzione del cibo che recuperiamo o dalle grandi aziende o dalla distribuzione organizzata oppure anche in tutte le situazioni dove il cibo verrebbe buttato via, anche se è ancora buono. Quindi la nostra mission è quella di recuperare e redistribuire gratuitamente il cibo ogni giorno e questo lo facciamo da più di 30 anni e lo facciamo con i nostri volontari sul territorio, nel magazzino di Pesaro dove siamo oggi a festeggiare questa donazione, nel magazzino di San Benedetto e nel Lab di Fabriano. Quindi siamo presenti in tutta la regione Marche, i nostri enti caritatevoli sono 262 e attraverso di loro noi rispondiamo al bisogno di oltre 43.000 persone, che è un dato fermo alla fine dell'anno. Quindi purtroppo le nuove povertà e i bisogni sono in aumento, sapete che anche i profughi dell'Ucraina sono diciamo nostri assistiti attraverso gli enti che assistiamo. Quindi noi siamo sempre pronti ad accogliere e a rispondere anche ai nuovi bisogni che si creano.